Se andate a meno di 30 all'ora, l'Avas, che è il sistema di avviso acustico dei pedoni, vi rompe le scatole anche all'interno dell'abitacolo. Ok, è una musica rilassante, richiama un po' il mondo dell'oceano e fa un po' quelle musichette lounge degli ascensori, però spero che ci sia un modo di disattivarlo. Si disattiva quando siete fermi, ovviamente, oppure quando superate i 30 km orari. A parte questa piccola complicazione che rende fare un video un pochino più difficile, BYD Dolphin è un'auto molto interessante perché, debutta in Italia, a novembre arriveranno le prime consegne, ma mi dicono dalla regia che ci saranno anche delle auto extra, quindi non solo le consegne per chi l'ha preordinata già da tempo, ma ci saranno anche auto che poi saranno visibili nei vari punti vendita. È un'auto compatta che va a un po' ridisegnare il mercato italiano, forse è la prima, se escludiamo MG, che si aggira sugli stessi prezzi, perché qui si parte dai 30.800 euro, poco meno, per una vettura che viene proposta come segmento C, 4,3 metri di dimensioni, 2,7 metri di passo, questa musichetta la sto iniziando ad odiare, ma tant'è, soprattutto, il prezzo è molto aggressivo, se andiamo a considerare il fatto che l'Italia necessita delle vetture un pochino più piccole. Qui lo stile è un po' da crossover, ma la possiamo definire un hatchback, che una berlinetta non è così rialzata da terra, che possono essere parcheggiate e che permettono, se andiamo a mettere nell'equazione gli incentivi, anche di avere un prezzo molto più basso di quel listino, perché i 30.800 euro con 5.000 di incentivi, che prendete solo se avete la rottamazione, vanno a diventare circa 25.800 euro, quindi una cifra che diventa già interessante per un'auto che, tecnicamente, anche se l'abitabilità la vedo un pochino rastremata qui all'interno, è nel segmento della vecchia Golf. Quali sono le caratteristiche? Beh, si parte da una batteria da 45 kWh, si arriva a una batteria da 60 kWh, ci sono vari allestimenti che ci accompagnano in una gamma con un delta di prezzo dai 30.800 ai 38.000, comunque tutte stanno all'interno degli incentivi. In questo range voi potete andare a scegliere un motore d'ingresso, quello da 95 kWh abbinato alla batteria meno potente, che è interessante perché forse, quasi per la prima volta, non ci va ad associare l'elettrico ad auto super costose e super potenti, ma ci propone una soluzione che ha un prezzo tutto sommato umano, anche se oggi i prezzi delle auto in generale si sono alzati, questa con 95 kWh è sicuramente guidabile, con una coppia da piccolo diesel è sicuramente molto meglio di utilitaria benzina di pari categoria, anche se quelle ovviamente costano un po' meno, e ci offre un pacchetto tutto sommato adatto a rendere la mobilità a tutto tondo, non solo a chi ha cifre molto più alte in tasca. La ricarica è un pochino castrata, qui arriviamo fino a un massimo teorico di 100 kWh in corrente continua, ma sulle versioni base abbiamo un 7 kWh in corrente alternata, possiamo avere anche l'11 kWh in corrente alternata. La batteria, come vi dicevo, 45 kWh sono tagli più o meno da città, infatti ci promette un 300 e qualcosa chilometri nel ciclo WLTP, con la versione più capiente, quella da 60 kWh, invece si superano agevolmente i 400 chilometri, quasi 430 sempre nel ciclo WLTP, poi vedremo quali saranno le autonomie effettive. Per quanto riguarda la qualità, devo dire che dall'esterno fa la sua figura, ha un design tutto sommato apprezzabile, questa linea che un po' riprende i tratti stilistici di BYD, e qua chiamandosi Dolphin è chiaro il richiamo al mondo del mare, ma a parte il design che comunque resta sempre soggettivo, la cosa più interessante secondo me è farvi vedere gli interni, che ci propongono tanta plastica, tanta plastica vista, poche coperture, se non nella parte centrale che è morbida qui sulla dashboard, ma un, dal primo approccio, un buon assemblaggio. Non vedo disaccoppiamenti strani nelle linee, anche qui che è un punto sempre spesso critico, tutto sommato il lavoro l'hanno fatto molto bene, certo è una vettura di fascia più bassa, e quindi dobbiamo pagare una minore attenzione nei rivestimenti, ma questo è sempre stato fatto nel mondo del termico, quindi non vedo perché lamentarci nel mondo dell'elettrico. Dove lei invece va a guadagnare tanti punti, a fronte di un design magari un pochino più spartano, anche se qualche attenzione come le maniglie delle portiere sono sicuramente interessanti e sono apprezzabili, e nella parte della tecnologia e della dotazione di serie. Infatti questa Dolphin ci propone la pompa di calore di serie, già qui abbiamo un grande vantaggio rispetto a tantissimi concorrenti, anche più blasonati, anche arrivanti dal mondo delle tedesche, che invece con la pompa di calore ce la fanno pagare. Oltre a questo abbiamo tutta la dotazione di ADAS di livello 2, la parte che include anche il cruise control adattivo, se non ricordo male, che viene proposta di serie, insieme a un'attenzione in più, che ho visto di recente solo sulle top di gamma, sulla Volvo X90, come il sistema che controlla i bambini all'interno dell'abitacolo, è un sistema che va a leggere, va a percepire anche i movimenti più piccoli, e quindi in caso dovessimo per distrazione malauguratamente menticarci un infante o un animale all'interno dell'auto, lei continuerebbe, visto che è connessa ad avvisarci tramite app, cerca di richiamare la nostra attenzione, e in generale mantiene l'abitacolo a una temperatura, a seconda che sia estate o inverno, vivibile e accettabile per evitare danni di qualsiasi tipo. Insomma, attenzioni particolari, che poi vengono riproposte anche nella parte della strumentazione, qui completamente digitale, piccolo schermo dietro al volante, che però trovo più leggibile rispetto a quello che abbiamo visto nel mondo del gruppo Volkswagen, perché ha più informazioni, è organizzato meglio ed è anche un pochino più grande. Schermo centrale invece con tutte le caratteristiche di connettività, ma anche la possibilità, come abbiamo già visto, di poterlo girare dal rapporto di forma verticale a quello orizzontale. All'interno l'interfaccia non è evolutissima, come ho visto su altri cinesi, ma resta super fluida e abbastanza leggibile. Io preferisco sempre un menu dove a sinistra ci sono le voci e a destra poi si espandono, ma qui è una scelta interessante perché c'è un app drawer come gli smartphone, ma c'è anche il multitasking esattamente come gli smartphone. Quindi voi dal menu principale andate a cercare le varie applicazioni con le classiche iconcine e poi potete passare da una all'altra tramite il menu del multitasking che vi permette di fare una selezione rapida al volo. La fluidità, come vi ho già detto, è ineccepibile, compatibilità col controllo remoto tramite app sempre presente, anche di serie, chiaramente anche tutta la sicurezza, quindi inclusa la chiamata automatica d'emergenza. Come va? Beh, a seconda del taglio che andate a scegliere, trovate poi tutti i dettagli in descrizione, e nell'articolo a corredo voi potete avere diversi motori. Fondamentalmente ci propongono comunque un massimo di 300 e qualcosa newton per metro di coppia che sono su una versione da più di 150 cavalli accettabilissimi e ci permettono di svincolarci in qualsiasi situazione. Tra l'altro sono motori comunque che abbiamo già visto perché il taglio di potenza più alto, 204 cavalli, si posiziona proprio in linea con le concorrenti tedesche per andare a rappresentare una minaccia nella stessa categoria, diciamo così. Per quanto riguarda i consumi non ve lo sto a dire oggi perché è impossibile, è una prova troppo corta per farsi un'idea generale che possa essere valida. La cosa che sarà più interessante sarà metterla alla frusta sia d'inverno sia d'estate, specie perché qui avendo la pompa di calore di serie, in alcune circostanze, soprattutto quelle invernali, lei dovrebbe riuscire, ed essendo anche molto compatta come peso, ad avvantaggiarsi sulle concorrenti che invece quell'accessorio ve lo fanno pagare circa un migliaio di euro. I prezzi vi l'ho già detti, ma tutti gli allestimenti li trovate nell'articolo in descrizione, se avete domande fatemele qui nei commenti, ci vediamo alla prossima, ciao!